Ci conosciamo? In un certo senso direi di sì. Chi è quella signora che ho incontrato ieri in biblioteca? È la mia dama di compagnia. E ha anche un nome? Si chiama Elisa. Elisa di Rigombrosa. È una bravissima ragazza. Io non sono una nobile. Penso, ma non vuoi capire? Tu sei un ristori. Non puoi fare certe cose. Io sono un conte. Un nobile. E un ristori non può sposare una... Una serba. Mi sono sbagliata. Mi sono illusa. Attenta Elisa. Non dire cose di cui potresti pentirti. Della mia vita. Decido io, signor. Non ti vedresti quanto ti amo. Vano mia madre. Mi desiderate, è diverso. Ti desidero. Ti voglio con tutto me stesso. Dalla prima volta che ti ho visto ti desidero. Da settimane ti voglio fino a impazzirmi. E ti amo. Io ti amo. Io ti amo. E ti desidero. E ti amo. Io amo Elisa! Io amo Elisa! Tu ti amo. Grazie a tutti.